Musica Musica Ho lavorato come negoziatore di ostaggi e poi mi sono dedicato invece alla formazione, al training perché le competenze che avevo acquisito come negoziatore di ostaggi le ho portate nel mondo delle imprese, nel business soprattutto da un punto di vista di comunicazione. Musica I tre punti chiave della mia presentazione odierna qui sono Ascoltare, capire, influenzare Molti pensano di ascoltare gli altri ma in realtà non ne sono capaci Se si vuole vendere un'idea, una soluzione è fondamentale capire le persone per capire le persone, per capire chi hai davanti a te devi ascoltare ascoltare attentamente soltanto quando hai ascoltato potrai essere in grado di capire e soltanto quando avrai capito potrai essere in grado di influenzare questa persona Musica È il nostro primo Richmond, usciamo con un'esperienza, con un magaglio importante e con una bella esperienza Un evento che ti dà la possibilità di entrare a contatto con tante realtà con grandi realtà molto importanti Pochi momenti liberi, sicuramente i ritmi sono assolutamente serrati ma è quello che ci dà la possibilità di avere più opportunità Musica 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 Musica